Peppe, sinistro all'incrocio dei pali. Ti dobbiamo chiamare Bomber? No, no, perché mi conosce Recoba. No, a parte gli scherzi. Ce lo meritiamo, dai, siamo stati fortunati. Sono stato fortunato io, un bel gol. In altre due occasioni è capitata la stessa palla. In altre partite ho tirato fuori, questa volta è andata bene. Un grande gol fondamentale in quella fase della partita dove l'Ecco stava tornando in avanti. Viviano in due occasioni è stato provvidenziale. Sì, ha fatto secondo me una grandissima parata, ma soprattutto la seconda sola ribattuta è da fuoriclasse. Credo che ci abbia tenuto in vita perché in quel momento abbiamo perso un po' di inerzia, un po' di campo. E poi nel momento di difficoltà siamo stati bravi a credici e con il calcio d'angolo è arrivato il gol bello e fortunato e la partita è andata in porto. L'Ecco è in grande difficoltà, lo ha confermato anche oggi, ma questa vittoria non era scontata. Siete stati bravi a tenere, a pungere, quando c'è stata l'occasione, tre punti di ripartenza, Peppe? Assolutamente sì, dobbiamo ripartire. Il risultato ci aiuta. Credo che vanno fatti i complimenti a tutti, a tutto il blocco squadra. Un ringraziamento dal mister Castori con il suo staff e il preparato dell'atletico perché abbiamo lavorato sempre bene e stiamo bene fisicamente. Quindi il nuovo mister ci ha, l'ho anche ringraziato tramite noi perché ha trovato la squadra in salute. Quindi il mister nuovo ci ha dato una mano, abbiamo vinto, siamo contenti e credo che, dico all'inizio, ha fatto un plauso perché credo che un'altra squadra in un momento del genere di difficoltà, andare sotto 1-0 dopo dieci minuti non era facile ribaltare e riprenderla. Siamo stati bravi, siamo stati calmi, abbiamo avuto personalità e l'abbiamo rimessa in piedi con grande forza e grande voglia, ma non era scontato. Oltre a gol, una tua grandissima prestazione difensiva, come stai fisicamente? Perché a Marassi eri uscito un po' prima. No, purtroppo una teminite, al tenne d'Achille, con un po' di edema, un'infiammazione, però non potevo saltare questa partita anche perché dietro siamo corti. Purtroppo Eric si è fatto male e Danilo era squalificato, quindi ho dovuto stringere i denti, ma l'ho fatto soprattutto per i miei compagni. Non potevo mancare una partita decisiva del genere, poi nella vita esiste il karma e sono stato premiato, non era da tutti dare disponibilità. Non mi sono mai tirato indietro e chi mi conosce lo sa. Ti conosciamo, sei un ragazzo sincero. Cosa c'era dietro quell'esultanza dopo un bellissimo gol? Ma credo che sia semplice da capire, non ci vuole l'interprete, però se devo lo spiego. Sento un po' di negatività, un po' di sfiducia da parte della piazza e siamo in difficoltà, è inutile nasconderci, però tranne gli ultras e noi un pochino l'ambiente è negativo. Io penso che il tifoso e l'amore verso la propria piazza si deve vedere nei momenti di difficoltà. Non si possono tirare sentenze a 9, 10, 11, adesso 8 partite dalla fine. Abbiamo bisogno del sostegno e della forza e soprattutto del pensiero positivo e dell'allineamento di tutta Ascoli per la salvezza. Ma se uno non gli viene da dentro e serve Belluscio, serve qualcun altro che dica queste cose, per me è fuori luogo. Io se tifo una squadra e tifo l'Ascoli lo sanno tutti. Credo che l'amore e la passione per la maglia va sempre sostenuto indipendentemente dagli episodi. Poi settimana scorsa perdi, sei scarso e ti fischiano, oggi sei bravo se vinci. Non è così. Ci vuole amore e passione fino alla fine. L'ultima Peppe, bisogna zerare tutto. Hai detto bene tu, 8 finali, veramente finali. L'Ascoli ha ancora chance per salvarsi, però bisogna zerare perché di errori ne sono stati fatti tanti, non solo da voi giocatori, non solo dai tecnici. Sono stati fatti tanti errori, quindi ora bisogna azzerare e guardare all'obiettivo. Ma questo non sta a me dirlo. Io penso a fare il massimo per la squadra, per l'allenatore a dare la disponibilità, i miei compagni cercando di trasmettere qualcosa di utile a livello tecnico, tattico e motivazionale. Sì, adesso 8 finali, però dobbiamo pensare a partita dopo partita. Ogni partita è la nostra finale di Champions League, è la nostra finale di Coppa del Mondo. La salvezza di quest'anno equivale per me come una vittoria di un campionato, come una vittoria di un mondiale. E noi giocatori lo sappiamo, quindi dobbiamo avere la voglia, la fame e l'ambizione di ribaltare quello che c'è stato e avere il pensiero positivo sul fine campionata di esultare tutti abbracciati con le lacrime per aver raggiunto un'altra ennesima salvezza difficile.